È un tassello di quella rivoluzione culturale che da quattro anni e mezzo stiamo portando avanti nei tanti settori della città e la mobilità è uno di quei settori che rispetto a cambiamento di abitudini, a cambiamento di usi e costumi sicuramente è uno dei settori più importanti e più nevralgici sui quali agire. Adesso sta a noi essere pienamente consapevoli dell'importanza storica di questa giornata. Sta a noi valorizzare, incentivare l'utilizzo di questo nuovo mezzo, di questo nuovo servizio anche perché è più pratico, anche perché è più veloce, è più economico e soprattutto ci consente di avere uno sguardo diverso sulla città.